No, sensazioni sicuramente positive. Arriviamo da appunto una bella vittoria all'ultimo minuto, quindi siamo ripartiti carichi a mille e appunto non vogliamo fermarci e cerchiamo di allenarci sempre al massimo per mettere benzina nelle gambe e per arrivare pronti alla partita di Coppa Italia col Palermo. È un'emozione che terrò sempre nel mio cuore, è veramente qualcosa di indimenticabile. Quello che è successo ma soprattutto per le 100 presenze che sono veramente un orgoglio per me perché è una cosa secondo me importante che fa capire comunque quanto ci tengo a questo club, a questa città e a tutto. Sicuramente c'è un abisso tra la Serie B e la Serie A perché l'intensità è più alta, devi pensare più velocemente quando ti arriva la palla, i ritmi appunto sono più alti quindi dobbiamo farci trovare pronti il prima possibile. Un bel gruppo perché comunque già dall'anno scorso eravamo un gruppo fantastico e secondo me è stata quella la nostra forza e i nuovi arrivi si sono integrati subito molto bene quindi per adesso sta andando tutta la grande.